Salve a tutti, io sono Ludovico Bortone e gestisco il B&B L'Antica di Mora a Macchia Codena assieme a mia madre che è Ciocchi di Diagama di Luisa. Il B&B si trova nella nostra abitazione privata, quindi il Palazzo Ciocchi, che è l'abitazione che abbiamo ereditato dai nostri avi, è stata sempre la nostra famiglia, la famiglia Ciocchi, che è praticamente la famiglia più importante del territorio di Macchia Codena. Non basti pensare che fino a 5-6 anni fa il castello principale del paese era di proprietà di mia zia. Questa casa è risalente alla fine del 1500 e poi è stata restaurata dopo il terremoto del 1805, anche prima, quindi nel 1700. Abbiamo tre stanze, di cui due quadruple e una tripla, un po' più grande delle altre, quindi la chiamiamo la suite, le altre sono stanze standard. Grazie a tutti. Grazie a tutti.